Siamo con Elisa Brocar, ci eravamo visti l'ultima volta in occasione dei campionati italiani di fondo estivo e quindi volevo chiederti come è andata avanti questa preparazione e come sta in questo momento? La preparazione è andata molto bene dopo quegli appuntamenti sugli skiroll abbiamo continuato la preparazione prima con un raduno a livello del mare dove abbiamo fatto prevalentemente skiroll e lavori in palestra e dopo di che era in programma di andare a Rams o in ghiacciaio ma purtroppo le condizioni della neve non ce l'hanno permesso e così siamo andati a Seyfeld dove sarà anche il luogo dei prossimi mondiali di marzo per noi e quindi è stato molto molto utile essere lì anche se ci siamo allenati a secco però quindi di nuovo con molto skiroll e c'era una bellissima pista di skiroll dove l'abbiamo sfruttata molto bene e dopo di che siamo arrivati finalmente sulla neve a Livigno la scorsa settimana dove inizialmente c'era solo neve dello snow farming quindi neve preparata e tenuta da parte dell'anno prima e infatti grazie a Livigno che ci ha permesso di fare questo anello con tantissimi volontari, tantissimo lavoro perché le giornate erano anche molto calde e quindi non è stato facile e poi verso la fine è arrivata finalmente la neve quella vera anche se era un po' bagnata però ci ha permesso di finire molto bene il raduno dove abbiamo iniziato a fare appunto dei lavori di qualità quindi dei test sulla neve e niente adesso ci stiamo avvicinando sempre di più alle prime gare è importante iniziare a far girare il motore e il prossimo raduno sarà invece a Davos dove faremo già delle prime gare ma peraltro possiamo dire è nevicato proprio nei giorni del tuo compleanno quindi attorno al tuo compleanno quindi un regalo migliore penso per una fondista non potesse essere eh sì di solito il mio compleanno lo passo sempre sui ghiacciai perché è il periodo per noi di andare in ghiacciaio quest'anno proprio grazie a Livigno siamo riusciti ad anticipare i lavori di qualità sulla neve prima perché appunto potevamo farlo a delle quote a noi più agevoli e sì per me poi fare il compleanno sotto la neve è stato nuovo perché penso che non era mai successo e niente ho un anno in più però cercherò di insomma di tramutarlo in esperienza più che in vecchiaia ecco Senti Rola infatti l'ultima cosa che invece volevo chiederti è uno sciatore no arrivato a questo punto cioè novembre quando manca ormai un mese anzi anche meno di un mese all'inizio della stagione come sta? Come vive questo momento? È un momento delicato da una parte perché si affina la preparazione si cerca di arrivare alle prime gare cercando di mettere a punto ogni minimo particolare per essere in forma e pronto per l'inizio delle gare appunto e poi c'è quella voglia di iniziare di mettere il pettorale perché insomma sì è vero abbiamo fatto dei test delle gare sugli schirol però lo sci è un'altra cosa, le gare sono un'altra cosa e quindi non si sa mai bene a che punto si è e quindi non si vede l'ora di mettere il pettorale e di vedere da dove si comincia per cercare di andare più forte possibile e quindi non si sa mai bene